amici di mondo blackberry.com eccoci di nuovo qui sono matteo vismara e dopo una breve pausa forzata sono rientrati in redazione oggi vi parlerò del nuovo sistema operativo 10.2.1 di casa blackberry un sistema operativo attualmente in fase beta andiamo assieme a scoprire tutte le sue nuove funzionalità allora le prime riguardano la parte grafica infatti troveremo la nuova icona della percentuale di batteria come potete vedere a dispositivo collegato ora avremo questo fulmine lampeggiante per vedere lo stato della nostra batteria con lo swipe verso il basso ci verrà mostrata ancora la percentuale e così scompare la nuova icona di ricarica dispositivo la rivediamo ancora quindi collegato a corrente avremo questa nuova icona lampeggiante in più è anche cambiato la regolazione del volume prima la troviamo qua in centro ora invece abbiamo questo fumetto che potete vedere qua sopra in alto quindi non è invasivo come la precedente altra funzionalità sempre a livello grafico è anche il menu a tendina quindi qua troviamo tutte le nostre quick setting le quali sono anche personalizzabile qua troviamo la rete mobile modalità aeroplano blocco rotazione bluetooth wifi sveglia notifiche e la nuove due funzioni introdotte sono quello dell'uso della torcia quindi cliccando qua possiamo accendere e spegnere la nostra torcia regolare il livello di immunosità ed è stato introdotto un nuovo monitoraggio di sistema quindi monitoraggio del dispositivo dove troviamo percentuale di consumo di batteria della cpu memoria del dispositivo e la memoria che abbiamo per store di tutti i nostri dati passiamo avanti anzi un'altra cosa che mi ero dimenticato è sono le nuove interfacce del lettore multimediali sia per i video che per la musica infatti troveremo una nuova interfaccia grafica per quanto riguarda l'app musica qui la potete vedere è cambiato un attimino possiamo vedere le nostre playlist andiamo a sfogliare la nostra libreria e la troviamo sempre col tema nero molto molto carino un'altra cosa grafica è stato cambiato anche il dealer abbiamo uno smart dealer ora adesso proviamo a fare una chiamata e vediamo come si comporta aspettiamo qualche secondo arriva la chiamata in arrivo ecco qua questo è il nuovo dealer quindi per rispondere non dobbiamo far altro che spostarci verso sinistra quindi sul verde per rispondere oppure verso destra sul rosso per appendere in questo caso il mio telefono è silenzioso eventualmente tappando sull'icona qua della nota possiamo andare a silenziare la suoneria adesso appendiamo e continuiamo a vedere le altre funzionalità abbiamo una diversa modalità di blocco del dispositivo quindi andiamo sulle nostre impostazioni protezione privacy password del dispositivo abbiamo la possibilità di usare un'immagine per sbloccare il dispositivo quindi andiamo a selezionare un'immagine mettiamo la password del dispositivo quindi andiamo avanti selezioniamo questa immagine andiamo a selezionare in questo caso il numero 8 quindi noi trasciniamo il numero 8 su questo azzurrino qua e andiamo avanti quindi ora tutte le volte che dobbiamo sbloccare il dispositivo dobbiamo posizionare il nostro numero selezionato nella posizione dell'immagine password confirm password immagine confermata perfetto le altre modifiche introdotte invece riguardano il classico blackberry hub ora abbiamo la possibilità di personalizzarlo ancora di più andiamo a vedere infatti le nuove impostazioni abbiamo la possibilità di riorganizzare tutte le nostre notifiche in modo da mettere sopra o sotto quelle che ci interessano di più o quelle che ci interessano di meno un'altra funzione sempre dell'hub che io trovo molto comoda è quella della possibilità con un piccino quindi avvicinando le due dita di andare a selezionare solo determinati messaggi tipo andiamo nel mio account di post gmail io ho impostato che quando farò un piccino nell'hub mi verranno visualizzati solo le mail non lette quindi avvicino le dita e l'hub mi farà visualizzare solo le mail non lette riportando le dita allargate quindi troviamo invece tutti i nostri messaggi questa è la nuova gesture da fare che io trovo veramente veramente comoda altra novità introdotta è il nuovo runtime unlocked quindi abbiamo la possibilità di installare file apk quindi applicazioni android direttamente dal dispositivo senza dover effettuare nessuna conversione andiamo a vedere cosa qua sulla mia scheda sd del dispositivo andiamo a vedere documenti android apk andiamo a provare lo store lo store scusate l'applicazione mai 190 per la gestione del traffico della nostra sim andiamo a tappare la pk come vedete andiamo in elaborazione abbiamo la possibilità di installare infatti noi vedremo che tappando su t file apk avremo in più oltre alle classiche possibilità di andare a copiare spostare eliminare il file abbiamo questa nuova funzione quella di installare l'applicazione quindi ritorniamo sul nostro mai 190 tappiamo e vediamo qua ci viene proposta la funzione install andiamo installare l'applicazione e vediamo che senza alcun tipo di conversione troveremo l'applicazione android perfettamente funzionante sul nostro dispositivo blackberry 10 attendiamo qualche istante l'applicazione è stata installata la troviamo qua e andiamo a vedere termini condizioni accetta avanti 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 schippiamo il tutorial e qui possiamo vedere in esecuzione l'applicazione senza alcun tipo di conversione queste diciamo che sono il grosso delle nuove funzioni introdotte in questo nuovo firmware che come ripetiamo attualmente è in versione beta per oggi è tutto un saluto sono matteo vismara alla prossima